benvenuti nella sezione dei carabinieri nel cyberspazio questo è il centro da cui vengono contrastati i crimini informatici e tra questi purtroppo c'è anche il revenge porn che è sempre più frequente e per parlarne ci colleghiamo con il capitano maria antonia secconi che è comandante della sezione atti persecutori del racis capitano di cosa si occupa la sezione che guidi la sezione atti persecutori è un reparto altamente specializzato sulla violenza di genere violenza domestica è stato creato nel 2009 contestualmente al reato di atti persecutori è inserito nell'ambito del reparto carabinieri investigazioni scientifiche è composto da militari altamente specializzati nella violenza di genere e esperti in psicologia criminologia informatica con il compito a livello nazionale di studiare il fenomeno della violenza di genere e violenza domestica sensibilizzare la collettività iniziando appunto dalle scuole con progetti di collaborazione interistituzionali sviluppati sia a livello nazionale che a livello internazionale analizzare e monitorare tutti i casi riguardo ai fattori di rischio e dare supporto all'armata editoriale nei casi più delicati nelle indagini appunto attraverso le escursioni protette delle vittime grazie all'esperienza maturata nel tempo coadiuva le scuole dell'arma dei carabinieri di ogni ordine e grado nella formazione nell'aggiornamento dei carabinieri tra cui per esempio il revenge porn purtroppo e tecnicamente e legalmente di che cosa si tratta il cosiddetto revenge porn riunisce in sé tutta una serie di condotte il reato di riferimento è quello di diffusione illecita di immagini e video sessualmente esplicite è stato introdotto nel codice penale nel 2019 con la legge nota con il nome di codice rosso capitano ci puoi raccontare un caso con cui recentemente avete avuto a che fare marco ti racconto il caso in cui ci siamo imbattuti durante il pattugliamento dei social e del web nel periodo del lockdown periodo in cui i casi di di venge porno così come di reati informatici sono cresciuti in modo esponenziale è la storia di carla una ragazza di 16 anni che frequenta un istituto tecnico di torino noi ci siamo imbattuti nella sua storia perché ha pubblicato un post in cui raccontava di sé e soprattutto ha lasciato intendere che voleva farsi del male perché vittima del reato di di revenge porno noi siamo riusciti a risalire all'identità della ragazza abbiamo contattato immediatamente il comandante di stazione lo abbiamo informato e chiesto di rintracciare i genitori e la ragazza per acquisire ulteriori informazioni per mandare avanti le indagini i genitori erano in linea di quanto fosse accaduto hanno visto però la ragazza che nell'ultimo periodo era strana si era chiusa molto in sé stessa ed era evitante la ragazza è stata accolta in caserma inizialmente ha avuto grosse difficoltà nell'aprirsi si vergognava pensava di essere giudicata per quello che le fosse accaduto ma con l'aiuto della psicologa della sezione atti persecutori e del referente della rete nazionale di monitoraggio sul territorio ecco lei è riuscita in qualche modo ad aprirsi a raccontare tutto quello che le era successo a raccontare dell'ex fidanzato e anche dei compagni di scuola che avevano diffuso questo video rendendosi quindi complici e colpevoli del reato di revenge porno il comandante di stazione quindi dopo la denuncia della ragazza subito ha informato la procura di riferimento che ha indagato questi compagni e li ha poi a che hanno subito un processo e sono stati condannati ecco che così Carla è riuscita a riavere in mano la sua vita a capire con consapevolezza i rischi che si corrono a diffondere e a pubblicare e a cedere anche le immagini personali intime che devono rimanere nel privato e che così con l'aiuto di noi carabinieri è riuscita quindi a riprendere in mano la sua vita. Ecco che non ti nascondo Marco che Carla ha scritto una bellissima lettera al comandante di stazione con il quale ha inteso ringraziarlo perché così come ha scritto le ha ridato l'onore e la vita. Ecco capitano come carabinieri cosa consigliate nel caso in cui si fosse vittime? Il consiglio è quello di denunciare prima possibile il tempismo è fondamentale per fronteggiare tutti i reati ma soprattutto quelli informatici meglio bloccare una fotografia o un video che circola in chat che rincorrerlo quando diventa mirabile. La tutela della propria privacy è fondamentale la prima prevenzione è quella di scegliere di non condividere foto personali che possono essere compromettenti se dovesse succedere chiedete subito la cancellazione. È importante sapere anche che il garante della privacy dà la possibilità di bloccare l'immagine per cui siete minacciati o addirittura cancellarla quando questa viene pubblicata. Il modo per poter avanzare questa richiesta è molto semplice bisogna andare sul sito www.garanteprivacy.it scaricare il modulo e inoltrarlo e il garante provvederà entro 48 ore. Grazie mille capitano dalla stazione dei Carabinieri nel cyberspazio da Marco Camisani Calzolari per ora è tutto ma continuate a seguirci sui social dei Carabinieri sul sito carabinieri.it per vari aggiornamenti. Noi ci vediamo la prossima settimana